Continua l'attività del Nucleo di Supporto all'Agenzia Nazionale per la Gestione dei Beni Sequestrate e Confiscata dalla Criminalità Organizzata, istituito presso la Prefettura di Caltanissetta. Lo scorso 3 novembre, infatti, su impulso del Prefetto, le Forze dell'Ordine hanno eseguito lo sgombero di un immobile a Gela, già confiscato in via definitiva e appartenente ad una nota famiglia della criminalità organizzata locale, che continuava ad occuparlo abusivamente. L'operazione fa seguito ad altre attività di sgombero portate a termine nel Comune Gelese nei primi mesi dell'anno da parte della Polizia di Stato, dei Carabinieri e della Guardia di Finanza, che hanno già eseguito operazioni di sgombero di due immobili confiscate ad esponenti della criminalità attiva in quel territorio, nonché di un complesso aziendale riconducibile ai medesimi sempre nel Comune di Gela. Il nuovo risultato conseguito nel territorio gelese, dunque, rappresenta un ulteriore e significativo passo in avanti dello Stato, nell'incessante azione diretta al contrasto della criminalità organizzata e contribuisce a dare un segnale forte della presenza e dell'impegno delle istituzioni per l'affermazione della legalità in un contesto complesso e articolato come quello di Gela.